Allarme ambientale a Boiano, la cittadinanza della cittadina ai piedi del Matese teme per la propria salute, infatti potrebbe nascere nella piana boianese un impianto per la produzione di biometano basato sulla trasformazione delle biomasse e nello specifico di letame e dei reflui zootecnici come la pollina e agricoli in concime biologico. L'area Matesina si presta particolarmente a questa tipologia di impianti in quanto nella zona sono numerosi gli allevamenti di polli e i casefici poiché anche il siero del latte rientra in quella tipologia di scarti utilizzabili per la produzione di biometano. Il progetto sarebbe stato già depositato al SUAP attualmente però la procedura sarebbe ancora ferma inoltre non sarebbero ancora prevenuti i pareri degli enti sul progetto di una ditta della provincia di Benevento. E sul tema dovrebbe prima svolgersi una conferenza di servizi, intanto l'impianto sorgerà in località Codacchio. L'allarme ambientale è altissimo perché l'iter avviato rientrerebbe nella procedura semplificata, la cosiddetta scia pass che non prevede la valutazione di impatto ambientale. Per questo iniziano a sorgere i primi interrogativi vista la presenza numerosa in zona di tanti capannoni per l'allevamento di polli ma anche di altri impianti che emettono fumi e vapori nell'aria. Dopo essere stata capace di farsi smantellare senza affiatare la più grande azienda agroalimentare del centro-sud e di farsi invadere da capannoni avicoli, afferma l'avvocato Alfonso Mainelli, oggi Boiano rischia l'ennesimo schiaffo in faccia un impianto per il trattamento delle deiezioni di massa incredibile di pollame che garantisce materia prima a quelli che si sono spartite le quote di mercato della Ex-Gam, insomma un bel impianto capace di trasformare biomasse in biogas puzzolente che rovinerà l'aria che respiriamo a Boiano.